Benvenuti a questa live, siamo qua in diretta ragazzi, oggi ci sarà da divertirsi, siete pronti? Oggi è una giornata magnifica fuori, stare qua e non stare in barchetta oggi un pochino, un pochino ci vorrei stare in barchetta, staremo a vedere se ci riusciremo, devo effettivamente fare una cosa, mi devo ricordare di fare una cosa, già vedo le domande, ciao la M, ciao M, ciao Nicola, ciao Giovanni, che già mi dice, prima di dirci come investire 100.000 euro, come le investiresti oggi, beh dici come racimolarle 100.000 euro, però Giovanni te l'ho detto in realtà, perché ho fatto un video in cui ho raccontato la mia storia e ho raccontato come rispetto a tanti che ho visto su YouTube fare video di questo livello importante, i 100k, a raggiungere i 100.000 euro di stato patrimoniale, in realtà proprio di liquidità messa da parte o investita, alcuni ci sono arrivati veramente in tempi rapidissimi, quindi chapeau, io ci ho messo tanto, ci ho messo veramente tanto, ci ho messo tanto perché ho fatto tanti errori dal punto di vista finanziario quando ero ragazzo, probabilmente ci sarei potuto arrivare tra i 25, sì intorno ai 25 anni probabilmente, se non avessi fatto tutte quelle cavolate quando c'avevo 20, 21, 22 anni, perché insomma da una parte io ho avuto la fortuna di appassionarmi alla materia che poi è diventato il mio lavoro, che è stato, era il trend del momento perché c'era pochissima conoscenza a livello informatico di sviluppo software a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, parlo del 95, 96 ragazzi, quando la parola internet in Italia era, la risposta che sentivi era, cos'è? Di cosa si tratta? Sarà una bolla che poi esploderà? Poi esplose effettivamente, la dotcom bubble è esplosa dal punto di vista finanziario, quindi tutto sommato era vero, eh? Ma, ma, scusate sto ridendo, non devo guardare la, non devo guardare la, la chat, e quindi non avevo strumenti, non avevo conoscenze, ero veramente ignorante all'epoca, quindi da una parte ho avuto la fortuna di trovarmi nel momento giusto al posto giusto, cioè di fare, la mia passione farla diventare poi il mio lavoro, lo sviluppo software, l'informatica, la tecnologia, era veramente la mia passione quando ero bambino e poi è diventato appunto il mio lavoro, si guadagnava benissimo, io ve lo racconto spesso, eh, a diciannove, vent'anni guadagnavo più dei miei genitori, eh, ho sempre avuto soldi in tasca già da quando avevo sedici anni, eh, proprio per i lavoretti che facevo in ambito tecnologico e informatico, magari andavo a, eh, c'era qualche ufficio che doveva montare la rete intranet e non sapevano dove mettere le mani e, eh, magari andavo a farlo io e mi facevo dare qualche soldino, eh, magari c'era qualcuno lungimirante che già parlava di primi siti internet, eh, all'epoca e, e quindi lo, lo sviluppavo io a due lire, oggi ovviamente non lo rifarei mai a quella cifra, però questo mi ha permesso di avere subito i soldi in tasca e quando si è ragazzi che si fa? Si è lungimiranti e si mette subito tutto da parte per investirlo in modo tale che con l'interesse composto nei prossimi vent'anni diventiamo milionari, giusto? È quello che si fa? No, io ho fatto esattamente il contrario, mi so speso tutto, tutto, me lo so speso tutto in viaggi e di questo sono molto contento, tornassi indietro rifarei tutto, anzi, tornassi indietro rispenderei tutto solo in viaggi perché poi purtroppo l'ho speso in vestiti di marca, mannaggia a me, ma come mi è venuto in mente? Vestiti di marca, e quella è quella fase in cui devi dimostrare il tuo status, no? Devi dimostrare agli altri che, che tu devi guadagni, che tu guadagni bene, che tu hai. Ve lo facevo l'altra volta il video, no? La vera ricchezza è quella invisibile, la vera ricchezza è quella che non si deve dimostrare perché quando devi dimostrare qualcosa, o di soldi ce ne hai così tanti che ti puoi permettere di acquistare tutto senza avere nessun tipo di problema finanziario. Vabbè, allora è ovviamente un altro discorso in tal caso, ma se invece il caso di noi esseri umani normali è il caso in cui bisogna risparmiare per cercare di costruire il proprio futuro, risparmiare non vuol dire privarsi, non vuol dire fare una vita di stenti e di sacrifici. Comunque, torniamo a noi, torniamo a me, ai miei errori, vestiti di marca, mi sono comprato la macchina a due posti, la mia Mazda, che a me di macchina non me ne fregava nulla, zero, niente, e poi sicuramente qualche altra stupidaggine, andare a mangiare fuori tutti i giorni, non portarmi mai il pranzo da casa, io lavoravo, all'epoca facevo consulenza in due o tre aziende ed erano tutte al centro di Roma. Una era in Via Frattina, un'altra era a San Pietro Ottaviano, un'altra era a Piramide, l'Eur, non era a Piramide, era più l'Eur quello, e quindi io avevo soldi, potevo spenderli, andavo al ristorante, perché dovevo fare come quegli stupidi che si portavano il pranzo da casa, ma poveracci, ma chi ve lo fa fare? Invece ho fatto delle stupidaggini. Comunque, i miei 100.000 euro li ho veramente, veramente fatto tardi, per le mie possibilità, non sto parlando in senso assoluto, perché credo ho raggiunto quel risultato intorno ai 28 anni, 28-29 anni, quindi in prossimità dei 30. poi diciamo che, anzi no, non lo diciamo perché non è vero, molti dicono raggiunti 100.000, poi arrivare al milione è facilissimo, per me non lo è stato affatto, non l'è stato affatto, anzi è stata una bumpy road, come dicono gli americani, cioè è stato un, se presente quando siete in volo e c'è turbolenza, no, e fate così, vi muovete, se non ci avete la cintura sbattete la testa sopra, ecco, è stato esattamente così il mio viaggio, e magari un giorno ve lo racconto il secondo step, quello dai 100 al milione. Federico mi chiede, è interessante questa domanda, cosa fa crescere la tua autostima? Federico, questa domanda è interessante, se ci fosse Viviana, sono sicuro che si farebbe una grandissima risata, perché Viviana dice che il mio ego è enorme, probabilmente è vero, il mio ego è molto grande, ma ti assicuro che conosco gente che in confronto il mio, il loro ego è l'astuccio del mio, però ho detto questo, cosa fa crescere la mia autostima? Ti posso dire cosa oggi mi rende, mi piace mostrare, e non sono più gli oggetti, non sono gli orologi che non ho, non sono le macchine che non ho, c'è una bicicletta pedalata assistita da 800 euro, comprata, che me la sono fatta importare dalla Cina, perché non mi andava di spendere qua 3.000 euro per una bicicletta elettrica assistita, e adesso quello che mi piace è aiutare le persone, questo mi fa guardare allo specchio e fa aumentare la mia lastima, aiutare le persone che oggi hanno gli stessi bisogni che io avevo quando avevo 20, 25, 30, 35 anni, bambini, oggi ce ne ho altri di bisogni, non è che sono arrivato, non sono arrivato da nessuna parte ragazzi, però oggi ce ne ho altri, diversi, ce ne avrò ancora diversi se la mia vita cambierà, se arriveranno dei bambini, non lo so, la vita è bella perché è piena di sorprese, però mi piace l'idea di aiutare, aiutare chi vuole essere, chi sta in ascolto e chi magari prende due o tre tra le tante stupidaggini che dico e quelle due o tre cose magari cambiano in meglio un piccolo pezzetto della sua vita, ecco, questo oggi mi crea autostima, cioè aumenta la mia autostima e spero di stare a riuscirci, spero di, almeno dai messaggi che mi mandate, e ci sono anche tanti messaggi, guardateli in chat, guardateli sui commenti, ce ne sono anche tanti negativi, però noi andiamo avanti e a noi ci piacciono, ci piace guardare la gente che effettivamente vuole condividere, vuole apprendere, me in primis, perché come vi dico sempre, per me queste dirette sono uno scambio, non ci sto solo io, ma è proprio uno scambio, lo sapete che non ho fatto, non ho postato la diretta di oggi, aspettate che lo faccio, perché secondo me la diretta di oggi è interessante, più siamo, più ci sono domande, più secondo me è interattiva. Ok. Allora, questo per rispondere a, sì, all'autostima di Federico che mi domandava prima. Allora, Fremal dice, Marco, sempre top, una domanda, per quanto riguarda il mercato cripto, tu lo vedi un bull market e secondo te quale sarà la top five in un futuro? Aspetta, mi devo mettere la musica, mi devo mettere la musica quando ce l'ho qui, lo posso fare, lo dovrò fare, così quando devo prendere la palla di cristallo per rispondere a queste domande, ragazzi io non c'ho la più pallida idea, non c'ho, non c'ho la sfera di cristallo, io posso avere modelli matematici, probabilistici, che mi aiutano a identificare cosa sta accadendo dal punto di vista macroeconomico, cosa, quindi dal punto di vista probabilistico, in questo momento per me l'orizzonte temporale futuro più plausibile da poter affrontare è un orizzonte temporale di due, tre mesi, di un trimestre, non posso sapere cosa succederà tra un anno, tra due anni o tra tre anni, vi dico la verità, credo che poche persone riescano a saperlo e a capirlo, perché oggi viviamo poi in un mondo che essendo globalizzato è così interdipendente, tra l'altro viviamo in un momento storico di profonde spaccature tra il mondo occidentale e il mondo non occidentale, che, boh, dire che cosa succede il prossimo anno, io non ce l'ho più palli d'idea, qui si naviga, non dico a vista, ma si naviga in territorio dove le certezze sono poche ed ecco che quindi ci viene in aiuto la statistica e la probabilità, quindi non ti so dire assolutamente quali saranno le top five cripto nei prossimi cinque anni, ti posso dire una cosa, io oggi sono concentrato su due criptovalute, bitcoin e ethereum, forse una terza ma nemmeno la voglio dire perché lo so che poi va a finire che mi mettete in bocca parole che non sono le mie, ma conoscete il mio patrimonio, conoscete quello che ho, ma cerco di gestire e tenere gli asset come fossero, come devono essere tenuti effettivamente, come se fossero degli asset finanziari classici, ok? Allora, tutti con i 6-0 a investire qui? Dice Salvatore, beh, Salvatore no, non credo, non credo perché me lo auguro, spero che tutti ci arriveranno, ma è un percorso, visto che c'è molta gente giovane, mi aspetto che non sia assolutamente assolutamente così, e del resto stiamo qui, vedete, a me dà un po' fastidio tutte queste etichette, trader, investitore, scalper, quello, queste sono tutte etichette, secondo me lo sapete che siamo noi, noi siamo esseri umani innanzitutto, persone col coltello tra i denti che tutti i giorni cercano di fare meglio, di fare meglio dal punto di vista della propria crescita personale, di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo, di cercare di avere il controllo più possibile delle nostre finanze, di non fare errori nei nostri investimenti di breve, medio e lungo termine, io così mi vedo, se voi oggi doveste dirmi Marco tu sei più trader, più investitore, sei più quel, io non mi sento niente, mi sento semplicemente qualcuno che cerca di affrontare nel modo più oggettivo possibile con strumenti che sono statistici, affrontare la quotidianità, affrontare quelli che sono gli obiettivi di breve, medio e lungo termine che ho, e a volte è facile, a volte ci riesco e a volte fallisco, e credo che sia la normalità, noi come esseri umani dobbiamo anche abbracciarla, questa, questa nostra, questi nostri limiti, dobbiamo abbracciarli e dobbiamo capire che alla fine la cosa più importante è il cambiamento, è cambiare, ogni giorno cambiare, cambiare qualcosa della nostra vita, fare qualcosa di meglio e a volte facciamo, un giorno facciamo qualcosa di meglio, magari il giorno dopo facciamo un disastro, ma non c'è problema, andiamo a letto, ci svegliamo la mattina dopo, ci alziamo e cerchiamo di fare qualcosa che comunque è migliore del giorno precedente e questo poi, questo è il vero interesse composto, perché è un interesse composto che non agisce sulle nostre finanze solo, ma agisce su di noi come persone, allora, Alex ci chiede, in quale paese emigrare dall'Italia per avere uno stipendio decente, conviene a 32 anni? Alex, allora, è una domanda estremamente personale, è facile, la prima parte è facile, perché la prima parte è matematica, vatti a vedere quali sono i paesi dove gli stipendi sono alti, ok? Vatti a vedere dove gli stipendi rispetto al, al, gli stipendi pro capite sono più alti dell'Italia, ce ne sono tanti di paesi in Europa e nel mondo, ci sono anche tanti paesi dove gli stipendi sono più bassi, eh, però in Italia, in Europa, se vuoi ragionare qui, basta che pensi ai paesi un po' del centro-nord-Europa, dalla Francia a Germania a salire, Danimarca, Olanda e ancora di più poi Scandinavia, eccetera, o UK, Inghilterra, anche se lì poi hai dei problemi adesso per, per entrare dopo la Brexit, no? Quindi da quel punto di vista è facile risponderti, attenzione, è facile risponderti, ma dovrai sapere che tipo di competenze hai, di che tipo di lavoro stiamo parlando perché probabilmente oggi non è più il momento storico, mentre io sono un fautore del andate fuori dall'Italia e fate un'esperienza all'estero, sono un promoter, ok? Uno sponsorizzatore di questa filosofia di vita perché all'estero si impara sempre tanto, si impara tanto su se stessi, si impara tanto su culture che sono diverse, si impara, ci si impara, ci si relazione con difficoltà e attraverso le difficoltà, è proprio il concetto di uscire dalla zona di comfort in cui, sai, in Italia, nella tua città, nel tuo paesino, nella tua casa, con le tue amicizie, col tuo lavoretto, sì, è tutto quanto un po', ti va un po' tutto stretto, però ci stai comodo in quello star stretto, no? E' come, sapete, quando indossi dei jeans che all'inizio appena usciti dalla lavatrice magari sono un po' stretti, no? Poi li ritieni qualche giorno, si cominciano un po' ad allargare e poi sono comodi e quasi gli dispiace doverli rilavare ancora e poi dover ricominciare il ciclo, no? Ed è la stessa cosa, questa è quella, questa è la metafora per la comfort zone. Quindi, sebbene io dica questo, dico anche che oggi uscire dall'Italia con la valigia di cartone, senza avere competenze, senza avere conoscenze, senza sapere cosa andare a fare, quello oggi non credo funzioni più molto bene. si rischia molto di rimanere delusi di dover tornare indietro con la coda tra le gambe. La seconda parte della domanda che mi fa è molto più difficile. Conviene a 32 anni? Ti potrei rispondere che se dove stai non stai bene, se dove stai non ti senti valorizzato, se al lavoro fai il lavoro che non ti piace, non ti danno lo stipendio che ti meriti, non ti danno aumenti, non ci sono opportunità di carriera, di crescita nei prossimi anni, non c'è questo, non c'è quello, ti direi, probabilmente sì, ti conviene, in questo contesto non c'è l'età giusto o sbagliata, non c'è, assolutamente. A qualsiasi età, perché perché auto-flagellarsi? Perché dover star male, dover viver male una situazione per tutta la vita piuttosto che provare a fare un cambiamento, anche se questo cambiamento vuol dire spostarsi con la famiglia, cioè io piuttosto che vivere male dove mi trovo preferisco rischiare di cambiare pianificandolo, non, ripeto, con la valigia di cartone partire così da matti, no, pianificandolo, magari dire ok, voglio uscire dall'Italia, qui dove sto sto male, devo cambiare città, devo cambiare paese, mi do sei mesi, un anno, due anni, tre anni, dipende dal vostro punto di partenza e da dove volete arrivare, da cosa volete ottenere, pianifico, cosa devo fare per, quali sono gli step piano piano e poi lo faccio, non sono uno di quelli che promuove invece il mi butto, sì vabbè forse a 18 anni ti puoi buttare, a 20 anni ti puoi buttare, però oggi la competizione nel mondo del lavoro è alta e quindi piuttosto che rimanere infelice per tutta la vita, prova, io dico sempre, la domanda che a me nella vita ha aiutato tanto, lo sai qual è Alex? È qual è la cosa peggiore che possa accadere? Qual è la peggior cosa che ti possa accadere se scegli di prendere quella strada, di uscire dall'Italia? Qual è? Che devi, che non ti trovi bene? Che non trovi il lavoro che ti piace? Che non trovi lavoro? Che e qual è il problema? Si torna indietro, nella peggiore delle ipotesi torni alla tua situazione di prima, quindi sai per me che sono un investitore che sto sempre a valutare il rischio e l'opportunità, il cosiddetto costo-opportunità ti direi quindi va benissimo, il rapporto rischio-rendimento di fare una cosa del genere è altissimo, perché male che va torni indietro, non è che perdi qualcosa, magari puoi anche se hai una, molti dicono eh ma c'ho una famiglia, c'ho i figli, beh intanto puoi andare tu in una ma scoperta, magari puoi uscire tu per due, tre mesi, quattro mesi, sei mesi e vedere se riesci a inserirti in quell'ambiente sociale, lavorativo del nuovo paese che hai valutato e poi portare la famiglia, è difficile? Sì, le cose facili non esistono, la mediocrità è facile, la mediocrità è facile, quella sì, rimanere dove sei, rimanere infelice, non cambiare, non imparare mai nulla nella vita, non evolvere, rimanere nel, nella tua comfort zone, quello è facile, però quello porta alla mediocrità e lungi da me, lungi da me dire che tutti devono avere l'obiettivo di uscire dalla mediocrità, dalla massa, lungi da me, chi ci sta benissimo in quel contesto deve viverlo, perché deve forzarsi a fare qualcosa che non è nelle sue corde, starà male, è logico, a me un pochino fanno innervosire le persone che si lamentano della loro situazione, ma non fanno niente per cambiarla, sta situazione, ecco, quelle non mi piacciono. Salvatore dice, io non capisco perché da trader, investitore speculativo, non hai spinto di più, sei bravo, ma evidentemente non sopporti a livello emotivo certe cifre. Allora, Salvatore, è una domanda interessante questa. Vedi, Salvatore, come dico sempre, è difficile immedesimarsi nel contesto che non vivi. Sai, è facile dire, cavolo Marco, ma tu avevi, quando avevi 500.000 euro, 600.000, un milione, quando avevi quella cifra, perché non hai continuato a fare investimenti con quella cifra speculativi di breve termine per con l'obiettivo di far crescere più velocemente possibile il tuo capitale. Ti rispondo, Salvatore, perché le regole del gioco, quando i capitali sono grandi, cambiano, cambiano le regole del gioco. Perché dopo 15 anni che facevo investimenti di breve termine, ero anche un po' stanco di passare tutte quelle ore davanti ai grafici, seguirli, eccetera. Adesso faccio investimenti speculativi, adesso ho un portafoglio di breve termine, ma faccio tutto in maniera più rilassata. Perché? Perché io nella vita sono fatto così, è il mio carattere, non voglio fare una cosa sola, non voglio dipendere da una sola entrata, non voglio concentrarmi solo su una tematica. Perché? Perché il mondo è così ampio, è così vario, ci sono così tante cose da vedere, da fare, da imparare, che a me piace assorbire il più possibile. E quindi l'idea di passare 5, 6, 7 ore tutti i giorni della mia vita davanti ai grafici, che sì, porta ansia, porta stress, anche se sei un professionista, ma soprattutto proprio come scambio, come scambio, no? Non aveva nessun senso. per il mio carattere. Quando il mio capitale è cresciuto, ho cominciato a dire, cominciamo un pochino a crearci i presupposti per i quali tra 5, 10, 15, 20 anni, vedremo quando, lo scopriremo insieme se sto ancora qua su YouTube a parlare con voi, riuscirò a essere più tranquillo, a generare rendite passive e a non dover sempre spingere il pedale. Vedete, ragazzi, gli sportivi professionisti a un certo punto si ritirano. Perché? Perché magari potrebbero ancora spingere il pedale e competere, però diventa stancante dopo una vita che hai spinto. E io vi assicuro, ragazzi, che ho spinto il pedale quando avevo 20 anni, quando ne avevo 25, quando ne avevo 30, quando ne avevo 35. L'ho veramente spinto. spinto sul fronte di professionale, sul fronte economico, sul fronte degli investimenti. L'ho spinto. Ancora adesso lavoro tanto. E a un certo punto quando diventi più grande ti dici, però, sai, a un certo punto devi anche goderti quello che hai costruito, perché altrimenti ti passi una vita a spingere. A spingere per cosa, poi? Perché poi finiamo tutti dentro la bara, giusto? quindi a un certo punto devi, secondo me, almeno quello che ho sentito io, quando sono cresciuto di età, ho sentito la necessità di trovare un equilibrio. Da tanti punti di vista. L'ho trovato? No. Se senti Viviana, Viviana ti dice, Marco, tu l'equilibrio non sai nemmeno dov'è di casa, però io mi sento che rispetto a quando avevo 30 anni, oggi sono molto più equilibrato. Non rispetto magari alle persone che mi stanno intorno, ma rispetto a me stesso di 15 anni fa. sono più equilibrato e spero con l'età, l'avanzare dell'età di riuscire sempre di più a godermi anche le piccole cose, a non dover sempre fare, 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 imparare, 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 leggere, 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 ma rilassarmi un po'. Ci riuscirò? Non c'ho idea, ma questo è, Salvatore, uno dei motivi che ti spiega ed è estremamente personale, estremamente personale. Ti spiega la decisione che mi ha portato a ad avere un portafoglio di lungo termine molto più grande del portafoglio di breve termine e di dedicare un tempo per me congruo ai mercati finanziari, alla finanza, agli investimenti speculativi e di questo poi parliamo proprio oggi. allora Giovanni dice dai allora questi 100k mettiamoli 50k in buoni postali 50k in bitcoin adesso ne parliamo e non vi preoccupate se tu oggi avessi 20 anni e vorresti raggiungere i 100.000 euro con la conoscenza dei mercati finanziari che è attualmente cosa faresti ragazzi se non generate reddito se non avete dei risparmi se questi il tasso di risparmio non ce lo avete mensilmente e cresce nel tempo non è che perché c'è la conoscenza dei mercati finanziari c'è la bacchetta magica e molti e fai un per mille tutti gli anni per arrivare quello che farei esattamente quello che ho fatto in passato punterei innanzitutto su me stesso punterei sulle mie conoscenze punterei su i settori le conoscenze le competenze che mi permettono di ottenere il ritorno in termini di reddito maggiore che non vuol dire necessariamente un lavoro dipendente io non l'ho mai fatto il dipendente vuol dire magari capire oggi di cosa hanno a bisogno il mercato capire oggi e oggi di gap ce ne stanno tanti grazie anche all'intelligenza artificiale che creerà una spaccatura tra il presente tra il passato e il futuro ed è lì che bisogna secondo me non voglio farlo io ma io lì mi infilerei oggi se avessi 20 anni oggi ci sono tante opportunità veramente tante e quindi cercherei di creare un sistema società chiamatela come volete o magari più di una che sicuramente più di una se tornassi indietro che mi permettesse di avere e ottenere redditi che aumentano e risparmierei il più possibile da questi redditi e investirei dall'inizio con le competenze che ho quindi farei questo non conoscerei altre scorciatoie a meno che non avessi la fortuna di rinascere una famiglia ricca che magari mi dice guarda marco a vent'anni tieni ti metto in mano 500 mila euro o ti metto in mano 100 mila euro con le competenze finanziari fai fai il tuo lavoro sarebbe diverso ma non era il mio punto di partenza allora polini mi chiede posso chiederti perché non hai iniziato a investire in bitcoin dall'inizio dei tempi ragazzi questa domanda oggi essendo informatico magari tecnico uno potrebbe pensare perché non hai cominciato a investire in bitcoin nel 2009 oggi è facile dire di col senno di poi no perché col senno di poi è sempre facile ma avresti potuto investire dall'inizio in bitcoin ma la verità è che nel 2009 2010 se ne parlava veramente poco veramente poco e io ero un tecnico ragazzo quello che vuoi adoravo la tecnologia eppure non se ne parlava per niente io come è cominciata ad arrivare alle mie orecchie e quindi il che non sto dicendo che visto che è arrivata alle mie orecchie nel intorno al 2014 2015 allora quella doveva essere la media no evidentemente io avevo le orecchie tappate o magari io avevo la mia attenzione era focalizzata in un'altra cosa all'epoca tra l'altro avevo cominciato ad aprire la mia prima azienda giravo il mondo per conferenze avevo scritto i miei primi libri di tecnici insomma quindi ero impegnato su vari fronti a volte quando sei troppo impegnato e sei troppo c'è la testa così no guarda deve guardare quello che stai facendo sapete l'indipendenza finanziaria ti permette secondo me anche di far questo di alzare la testa e guardare cosa c'è davanti e intorno a te e cogliere delle opportunità che quando stai piegato tutti i giorni così piegato a lavorare e a fare quello che stai facendo delle tante opportunità ti scappano e quindi ti direi probabilmente mi è scappata mi è arrivata all'orecchio nel 2014 2015 all'inizio mi ci sono un po divertito esci entra esci entra c'era questo banco matt che c'erano messo al lavoro e quindi facevo queste cose poi è aumentata la consapevolezza anche cioè perché prima ragazzi sta roba c'era veramente poca gente quindi magari se avessi se ci avessi investito subito mi sarei perso le chiavi private me lo dico sempre per come son fatto io se avessi diciamo tornando indietro avessi cominciato ad investire in bitcoin nel 2010 2011 2012 ci metto la mano sul fuoco mi sarei perso le chiavi private e oggi probabilmente non lo so mi sarebbero cascati tutti i capelli per la rabbia quindi va bene così e semplicemente è stato il mio percorso doveva andare in quel modo ragazzi vedete mi mi dicono no con tutte queste tensioni tra russia ucraina israele hamas eccetera in un ipotetico scenario di guerra globale cosa succederebbe ai mercati e che ne so io cioè stiamo parlando di fare una previsione su degli scenari previsionali cioè mi stai chiedendo la previsione della previsione sulla previsione cioè perché concentrare perché avere delle dei pensieri no che ti drenano in energie pensieri che tu non servono a niente perché non c'è nessun pochissime persone hanno controllo sull'outcome di quello che chiedi potrebbe accadere poche persone al mondo ce l'hanno di certo noi comuni mortali quella roba non abbiamo la più pali idea di cosa succede tra i massimi sistemi ecco perché la geopolitica non rientra nel mio processo di investimento perché la geopolitica non la puoi backtestare non la puoi rendere matematica statistica probabilità perché dipende dalle delle persone perché i politici dicono a e fanno b fanno b e dicono c perché è il loro lavoro fare in quel modo perciò io ti rispondo in un altro modo non mi interessa i mercati hanno già affrontato guerre mondiali e ci hanno già fatto vedere come sono usciti da quelle guerre mondiali nel lungo periodo se dovesse accadere di nuovo non c'ho la più pallida idea se dovesse accadere di nuovo l'unica cosa che posso sperare intanto è di sopravvivere io e i miei cari il resto non c'ho non lo so allora c'è massimo che dice ho 38 anni arriverò a 50 anni circa ad avere finanziariamente 6 zeri da parte ma che fatica è una fatica ragazzi è una fatica ma pensa a 50 anni tra l'altro tra 12 anni non è un periodo infinito pensa che soddisfazione e mi considero pure bravo a risparmiare e investire ma con una ral di 50 60 k mi sento già bravo beh ti direi che insomma in 12 anni raggiungere quel risultato a 6 zeri con una ral di 50 60 k chapeau sicuramente quindi massimo bravo risultato a 6 zeri con una ral di 50 60 k chapeau sicuramente quindi massimo bravo a risparmiare e testa e spalla sull'S&P 500 potresti fare un video su investimenti a lungo termine per chi inizia oggi un video che spiega come valutare un'azienda qualità di cercare in un'azienda consigli vari allora in un video ci dovrei fare un video che dura un centinaio di ore forse con un video che dura un centinaio di ore riesco a trasferirti non si può parlare di tutte quelle cose in un video cioè tu pensi veramente che una materia così ampia come quella dell'analisi fondamentale macroeconomica possa essere condensata in qualche ora ragazzi c'è questa roba c'è questa roba c'è gente che la studia una vita una vita dedica a questa roba io vi dico io sono vent'anni che sto su questi mercati e non c'è un giorno che imparano che non impara una cosa nuova guarda oggi proprio ho chiuso il capitolo del libro dedicato all'analisi fondamentale agli investimenti di lungo termine l'ho chiuso oggi l'ho consegnato all'editore alla fine il capitolo è diventato enorme perché non riuscivo a chiuderlo non riuscivo a dire ok basta questa informazione mi devo fermare qua e ogni volta che aggiungevo un'informazione mi dicevo ok ce n'è una no devo dire anche questa cosa no ho portato degli esempi pratici ovviamente perché voglio che il mio libro sia il più pratico possibile no e mi rendevo conto che dovevo sempre scendere di più a dare informazioni e alla fine il capitolo è venuto quasi di 100 pagine quasi di 100 pagine quando lo vede l'editore gli prende un colpo sicuro mi fa tagliare perché dobbiamo mantenerci sotto un certo numero di pagine altrimenti il prezzo mi ha detto diventa troppo alto la gente non lo compra il libro io mi sono detto ma veramente la gente non compra un libro da 35 39 euro perché troppo 39 euro in un libro in cui è condensato vent'anni di esperienza e una persona reputa eppure mi ha detto queste sono le leggi del mercato quindi è inutile che sbatti i piedi e perciò no non si non si riuscirebbe a fare in un video te lo assicuro marco perché non parli del principato di monaco che siamo a 15 chilometri dall'italia viviamo a 500 metri dal confine facciamo tutto in italia e lavoriamo di qua nessuno lo dice e andrea innanzitutto ti dico che non mi sembra una cosa di cui vantarsi troppo no ti dico la verità cioè perché tu vivi in un paese in cui la tassazione è estremamente favorevole vivi in un paese in cui gli stipendi sono alti però poi vieni a consumare in italia cioè mi sembra un po cioè di nuovo nessun giudizio però è una cosa che io non mi sento di fare mi sentirei un po parassitario nel fare una cosa del genere se decido di vivere in un paese perché sposo la vita di quel paese sociale economica finanziaria lavorativa eccetera e lì sto se voglio voglio risparmiare le tasse allora me ne faccio delle scelte per esempio per me sto in un paese in cui la tassazione il costo della vita non mi è affatto favorevole perché sto qua allora vi potreste domandare per la qualità della vita sto qui perché amsterdam è praticamente grande come due quartieri di roma non c'ho la macchina non ce ne ho bisogno da sette anni non c'ho la macchina ragazzi a me sembra un sogno a roma la macchina devi prendere per andarti a prendere il caffè al bar o per andare a fare la spesa qui faccio tutto a piedi al massimo con la bici però come al solito no pago pago c'è sempre qualcosa da se vuoi avere qualcosa devi sempre lasciare qualcosa ragazzi la perfezione non esiste e qui rispondo a da quanti anni sei in olanda sette perché hai scelto lì ho scelto questo per la qualità della vita perché la tassazione è molto simile a quella dell'italia che che si creda se ne creda molti dicono marco sei andato in olanda perché abbiamo letto che è il paradiso fiscale sì è il paradiso fiscale per campari è il paradiso fiscale per ferrari non è il paradiso fiscale per me che sono niente una persona normale io pago il 42 per cento di tasse quindi mi sembra un paradiso fiscale no la tassazione addirittura qui adesso finanziaria è peggiore dell'italia perché hanno introdotto uno scaglione il secondo scaglione se c'hai più di 500 mila euro paghi più del 30 per cento di capital gain quindi cioè niente proprio peggio di così non poteva essere ma sul piatto della bilancia in questo momento della mia vita pesa di più questa cosa c'è pesa di più è più importante la qualità della vita rispetto a quello che il risparmio alessandro dice dopo tanti anni che ascolto marco penso che toglierà il pedale dal toglierà il piede dal pedale ma non andrà mai via da questo mondo e come vi dico sempre ragazzi finché mi alzerò la mattina non vedrò non vedo l'ora non vedendo l'ora di portare informazioni contenuti e confrontarmi con voi parlare con voi finché lo farò con piacere con con gioia continuerò a farlo il giorno che non mi vedrete più è perché mi sono rotto le scatole mi sono fatto male quindi una delle due allora c'è michele che mi chiede una domanda ciao marco non hai mai più parlato dei portafogli che hai fatto con i tuoi studenti del corso azionario evidentemente durante il covi ci aggiorni performance eccetera michele che memoria michele bravo sì è vero perché nel nel mio percorso di analisi fondamentale per cercare di capire come leggere studiare i bilanci delle aziende quali tecniche utilizzare per il calcolo del fair value eccetera è capitato il covi da un certo punto momento in cui sono andati tutti quanti in tilt gli investitori e mi sembrava il momento migliore anche per come diciamo esempio didattico per far vedere a chi stava facendo quel percorso di analisi fondamentale come costruire un portafoglio in quel periodo storico alla fine di portafogli in quei due anni ne ho costruiti quattro quattro portafogli diversi e sì lo possiamo andare a vedere vediamo aspettate il bello ragazzi è che io non c'ho niente da nascondere che tutto quello che faccio è praticamente pubblico quindi fatemi andare a prendere i portafogli intanto qualcosina ve la ve la dico dei portafogli perché i portafogli ne ho creati quattro gli ho dato quattro nomi diversi perché avevano quattro obiettivi diversi ho pensato tra il 2020 e il 2022 perché in quel in quest'arco temporale ho creato i portafogli ho pensato a degli esercizi di stile diverso quindi sono quattro portafogli con obiettivi molto diversi il primo si chiama fenice e utilizza proprio la metafora non so se sapete la metafora della dell'uccello egiziano no la fenice che è capace di risorgere dalle proprie ceneri risorgere a vita nuova e quindi è un po il simbolo del ciclo della vita ho pensato a questo nome proprio per nel 2020 c'era stato il grande crollo ok pensiamo oggi dopo questo grande crollo e c'erano i primi segnali di ripresa come costruire oggi un portafoglio un portafoglio che diciamo abbia la possibilità di approfittare del l'eventuale rimbalzo nel tempo quindi sempre con un obiettivo di lungo termine rimbalzare e approfittare dei rendimenti futuri e andiamolo a vedere fatemi un attimo solo prenderlo perché ce l'ho dove ce l'ho il portafoglio allora aspettate fatemi tirarlo fuori eccolo qua allora fatemelo mettere di qua eccolo qui e devo solo condividervi lo schermo eccolo qua allora andiamo partiamo dal primo dai eccoci qua vi ingrandisco un po così lo vedete meglio partiamo dal primo che ho creato il primo che ho creato era il portafoglio fenice no di cui parlavo prima un portafoglio praticamente azionario cento per cento e qui dentro ci sono aziende come nei vari settori è estremamente diversificato dal settore health care technology consumer staples finance rates quindi immobiliare health care ancora non so ci sono aziende come bristol mayer squib boston properties black rock bank of new york bank of montreal ameri price financial altria group alphabet google abbwe quindi questi sono solo alcuni dei nomi ora dal 2020 cioè da quando l'ho creato il portafoglio ha fatto il cento diciotto virgola undici per cento che tutto sommato non è una è una buona performance non enorme perché l'S&P 500 ha fatto un po di più ha fatto il cento ventisei per cento però guardate dal 2015 quindi come al solito tre anni ragazzi non ci dicono niente su un portafoglio quindi ho fatto un po di backtesting e ho visto lo stesso portafoglio tornando un pochino più indietro nel tempo dal 2015 ha fatto il duecento venti per cento questo portafoglio quindi insomma ha sovra performato in maniera interessante l'S&P 500 che ha fatto solo il 164,75 per cento il secondo portafoglio che ho voluto creare è stato un portafoglio proprio contrarian lasciatemi dire un portafoglio non convenzionale l'ho chiamato io che aveva l'obiettivo di partire non dalla selezione delle aziende ma partire da delle tematiche che negli anni successivi in base a quello che stava accadendo dal punto di vista economico presentavano delle potenzialità di crescita fondamentalmente è un portafoglio ragazzi che si basava su inefficienze di settori ed industrie aveva una bassissima esposizione agli Stati Uniti perché si parlava all'epoca con gli studenti del percorso ok Marco però i portafogli tutti quanti tendono a essere molto pesanti sugli Stati Uniti ma secondo te è possibile pensare ad un portafoglio che invece minimizzi azionario ma che minimizzi l'esposizione agli USA e questo portafoglio lo fa e diciamo che quello che mi ha portato ha guidato a selezionare le aziende è stato quello di avere aziende che avevano un sentiment degli analisti finanziari negativo perché sapete a volte proprio quelle aziende che hanno bilanci positivi hanno debiti bassi hanno un cash flow stabile ma sono un po snobbate ok dai investitori dagli hedge fund e magari sono quelle aziende che poi hanno la possibilità negli anni di fare performance interessanti no qui dentro che aziende ci stanno ragazzi ma vi posso dire guardate vi faccio vi faccio vedere un capture questo l'ho messo nel libro e ora ve lo faccio come faccio a farvelo vedere questo modo faccio una cosa che non dovrei fare eccolo qui non dovrei fare perché questo è il capitolo del libro che ho consegnato oggi ci sono aziende questo è l'australia paladin energy di piello uranio queste due stanmore carbone il settore del carbone sempre in australia abbiamo che che ns agricoltura sinoferta ancora settore dell'agricoltura abbiamo china nel china shenua nel settore del carbone hong kong yanzu sempre settore del carbone abbiamo golden agri risorsi se ne vada copper per il rame quindi un portafoglio un po di di questo tipo andiamo a vedere diverso dal dal solito assolutamente è un portafoglio interessante perché da quando l'ho creato era nel 2021 non mi ricordo febbraio marzo dovrei andare a vedere comunque ha fatto il 69,59 per cento quindi ha più che sovraperformato l'S&P 500 che da quando ho creato il portafoglio ha fatto solo il 28,7 per cento dal 2015 però vedete la performance cambia perché ha sottoperformato l'S&P quindi diciamo che è andato molto bene nel momento in cui l'ho pensato e magari andrà bene nel futuro ma se torno indietro nel tempo ha sottoperformato l'S&P ci sta da un punto di vista se ci pensate logico no perché è un portafoglio che partiva da dei temi dai temi di 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 attualità per esempio da è un portafoglio mi ricordo che ho costruito tanto pensando a alle inefficienze alle problematiche del settore energetico e questa transizione energetica che vuole farci arrivare il più presto possibile ad abbandonare il petrolio il gas e allora mi ricordo ho pensato tanto a settori come il l'uranio quindi il nucleare e al settori come l'agricoltura quindi chi diciamo operava nel settore agricolo e quindi magari questo portafoglio andrà bene dal momento in cui l'ho creato ma se torno indietro nel tempo così bene non c'è non c'è andato no ci sta ok il terzo portafoglio si chiama idra il terzo portafoglio era un portafoglio antifragile come lo chiamerebbe taleb no diciamo che anche qui usa un nome un po mitologico il l'idra cos'è quel serpente che era impossibile da uccidere perché non appena gli tagliavi una testa ecco qui che dalla ferita ne nascevano altre due ed è una metafora che secondo me si adatta molto bene a quella della personalità nostra nostra degli investitori che effettivamente devono avere questa caratteristica quella di riuscire a reagire nonostante le difficoltà e nonostante i crolli momentanei del mercato e allora avevo pensato a questo portafoglio per come portafoglio di resistenza di resilienza anche alle recessioni quindi qui per me era importante creare un portafoglio che anche durante le recessioni era in grado di essere più stabile dei portafogli classici anche qui dentro ci stavano aziende come l'etf del brasile ci avevo messo aziende come enbridge del canada nel canada franco nevada america avevo messo l'etf dell'india infosys avevo messo british tobacco broadcom broadcom cameco caterpillar e da quando l'ho creato 2021 ha fatto il 56,89 per cento quindi ha sovraperformato il l'S&P 500 è andato bene anche tornando indietro quindi dal 2015 ad oggi ha fatto un 204 e 75 per cento anche qui guardate vi posso far vedere alcune posizioni le ho scritte qua sempre nel libro che uscirà novembre ottobre novembre di quest'anno queste sono alcune posizioni del del portafoglio infine mi sono un po divertito perché ho creato un portafoglio pensione perché mi ricordo che mi aveva fatto un po una challenge un mio un mio studente mi aveva detto a marco tu parli sempre di voler avere un portafoglio per la tua pensione che ti vivere di dividendi questo è il mio obiettivo voglio arrivare lì no lo sapete sto lavorando a quell'obiettivo sto aumentando piano piano capitalizzando sempre di più il portafoglio di lungo termine proprio attraverso da una parte i risparmi che metto da parte ogni anno e dall'altra da tutte quante le performance i rendimenti che genero da quelli che sono gli investimenti di breve termine quindi ci sono due diciamo liquidità che entrano all'interno del portafoglio di lungo termine mi ha detto è però un portafoglio di dividendi difficile riuscire a creare un portafoglio che possa generare un 3 per cento netto 4 per cento netto è impossibile e a me quando mi dicono la parola impossibile io sento sempre mi dico sempre ok se è impossibile allora lo devo fare ci devo provare e ho creato questo portafoglio con un obiettivo se lo ricorderanno i miei studenti l'obiettivo era quello di avere un dividend yield l'ordo è del 10 per cento 10 per cento e però selezionando aziende aziende attenzione non è non che stavano andando in fallimento e che avrebbero potuto tagliare in due mesi il dividendo ma aziende che avevano poco debito e un cash flow importante in modo tale da poter sostenere nel tempo il pagamento di un dividendo così alto e alla fine ci sono riuscito guarda vi faccio vedere alcune posizioni di queste aziende e vi faccio vedere anche il dividendo yield di queste aziende eccolo qua vedi il dividendo yield 13 per cento annual capital management dividendo dell'8 e 88 gold ocean group dividendo yield del 17 82 green green draw shipping holdings settore industrial poi loma negra 19 12 petroleo brasileiro petro bas brasile energetico 16 e 69 e così via quindi anche questo portafoglio ci ha dato soddisfazioni lasciatemi dire che queste performance sono le performance solo generate dai rendimenti delle aziende del prezzo non ci sono i dividendi perché era uno sbattimento calcolarli ragazzi non l'ho fatto e questi erano i portafogli questi quattro portafogli che ho creato nel nel tempo è stato un stato un lavoro interessante in un periodo interessante quello del post covid e insomma sono contento di aver dato questo strumento didattico perché io l'ho pensato non e ho sempre detto ai miei studenti non prendere questi portafogli scopiazzateli senza accendere il cervello ma utilizzateli per capire quello che insegno nel corso in termini di tecniche come poi lo potete applicare a nella pratica e quindi per me questo era il senso è stato interessante un bel esercizio e poi tutto sommato i risultati sono arrivati quindi ad oggi sono soddisfatto di quello che ho fatto in quel periodo allora allora riccardo dice negli ultimi cinque anni l'S&P 500 ha fatto l'85 per cento da inizio 2020 riccardo le percentuali che ti ho fatto vedere sono calcolate dal giorno in cui ho presentato il portafoglio ok quindi non è da inizio 2020 non è da fine 2020 è nel giorno in cui ho presentato ai miei studenti il portafoglio ora il giorno non me lo ricordo sta scritto nel corso se lo ricordano i miei studenti magari qua c'è qualche mio studente che può scriverle i giorni ecco però è da lì il calcolo ok riccardo dice che cosa intendi per qualità della vita perché mi sembra di servizi offerti perché mi sembra difficile per uno che ha viaggiato tutto il mondo trovare un posto migliore per qualità della vita dell'italia cibo e paesaggi riccardo l'italia è un paese magnifico e il mio obiettivo è di tornare in italia nel momento in cui non devo più generare un euro da business fatto in italia questo credo sia il problema principale dell'italia vivere in italia non dovendo lavorare in italia ma vivendo di redditi che vengono generati attraverso l'immobiliare attraverso il portafoglio quello che vuoi è la cosa più bella del mondo e se devo pensare a me probabilmente ci tornerò in italia però per esempio per averci un'attività averci un'azienda è complesso è più complesso di altri paesi in italia è come se dovessi spingere molto di più per arrivare allo stesso punto a cui arriveresti in un altro paese in cui puoi spingere molto di meno dal punto di vista se sei un dipendente dal punto di vista della carriera l'italia non offre tanto viviana non ha per ora nel periodo della sua vita che sta attraversando non ha intenzione di è ancora giovane tempo davanti ma non ha intenzione di fare l'imprenditrice quindi fa la dipendente in italia essere dipendenti fa un po schifo c'è probabilmente c'è qualche città del nord dove ci sono delle possibilità effettive ma comunque gli stipendi se commisurati all'estero sono molto bassi e le potenziali di carriera non sono così grandi comparate a quello che fa che si può fare all'estero quindi siamo qui anche per le sue possibilità perciò se riccardo tu il qualità della vita vuol dire paesaggi e cibo l'italia vince 6 a 0 a 6 a 0 ma proprio a mani basse il problema è che qualità della vita non è solo quello la qualità della vita è anche passare essere costretti a passare un'ora e mezza in macchina nel traffico per da casa tua raggiungere in 15 chilometri raggiungere il centro di roma quella per me era una grande frustrazione se vivi a roma tu sei schiavo della città non sei cittadino della città tu alla fine vai sempre negli stessi posti minimizzi gli spostamenti perché spostarsi a roma è un incubo spostarsi per lavoro ma anche spostarsi per vedersi con gli amici a roma la mia idea di tornare a roma ti dico l'unico motivo che l'unica condizione l'unico scenario che nella mia testa mi farebbe tornare a roma sarebbe il seguente vivere di rendita col mio portafoglio di lungo termine attraverso i dividendi quindi non dover generare nessun tipo di business in italia niente non dovermi spostare quindi vivere al centro di roma e gustarmi il centro di roma senza manco la macchina se mi serve spostarmi prendo il taxi questo concetto di vivere a roma mi piace però per arrivare a quel punto devi poterti permettere quella cosa altrimenti roma è un incubo è la città più bella del mondo sì guarda che cosa ti offre solo in termini di arte e monumenti e concerti eccetera esposizioni eventi fantastica roma come altre città d'italia adesso io perché sono romano lo sto dicendo e conosco roma ma roma è una città infernale una città difficile pesante se la devi vivere in tutto e per tutto per ora infatti come dice fabrizio per ora ci torno in vacanza come quest'anno in puglia sono tornato in puglia è stato bellissimo fantastico mi sono sposato in sicilia ci siamo sposati l'anno scorso con viviane in sicilia adoriamo noi adoriamo il sud italia mi dispiace per il nord italia ma adoriamo il sud italia ma perché ci piace il bel tempo il mare e il sud italia da questo punto di vista offre di più anche se ci sono bellissimi posti di mare anche al centro nord diciamo e quello è fantastico christian dice quando ti trasferisci a dubai per fare il fuffa guru christian sa che non mi ci trasferirò mai a dubai non credo proprio perché quel clima quella vita non fa per me pensa che io per lavoro ho vissuto nove mesi nove mesi otto mesi a dubai ad abu dhabi quindi diciamo quell'area geografica certo abu dhabi non è dubai però è vicino a dubai da tanti punti di vista e non mi è piaciuto per niente per nulla non mi è piaciuto la vita non mi è piaciuto quello che puoi fare quello che poi ti ritrovi a fare è proprio una vita dalla qualità bassissima per me è per il mio carattere lungi da me il giudicare che invece ci si trova benissimo e sono sicuro che ci sono tante persone ho amici che fanno i piloti di emirates e ci vivono lì stanno bene tutto sommato quindi ecco perché non esiste la città ideale dove vivere perché è soggettivo esiste la città ideale dove io vorrei vivere tra l'altro in una finestra precisa della mia vita perché a vent'anni probabilmente non volevo vivere ad amsterdam oggi sì magari tra dieci anni non ci voglio più vivere qui e ci sarà un'altra città ecco voglio anche avere la possibilità e la flessibilità di potermi muovere spostare e decidermi quindi mi dispiace per vedermi fuffa augura dubai christian devi aspettare forse non arriverà mai sorry giovi dice non hai la macchina ma i termosifoni accesi per più tempo rispetto a che cosa rispetto alla sicilia rispetto alla puglia perché se mi devo confrontare alla lombardia al piemonte al veneto è ti direi che non è assolutamente vero purtroppo ragazzi la 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 il global warming c'ha anche le città più fredde amsterdam non è oslo la l'olanda non è la danimar e scusate l'olanda non è la svezia o la finlandia non stiamo a quelle temperature il clima qui è molto meglio di quello che pensi probabilmente non so se ci sei mai stato amsterdam ti consiglio di venirci in più stagioni certo non è assolutamente il tempo di roma non è assolutamente il tempo di palermo di catania di lecce di bari di reggio calabria di madi di matera no non è quel tempo più bello lì il tempo sicuramente però ti assicuro che il tempo è decisamente e qui ci sono le quattro stagioni in italia al centro sud in italia è difficile averci le quattro stagioni qui c'è la primavera l'estate l'autunno e l'inverno come tutto sommato è giusto che sia a volte dura un pochino troppo l'autunno comincia un po troppo presto a volte l'inverno è un pochino troppo lungo magari dura un mese in più quest'anno la primavera non ce l'abbiamo praticamente avuta è un po' assaltato la primavera a posto della primavera ci abbiamo avuto un lieve autunno infatti in barca non siamo praticamente siamo usciti quattro volte in barca noi questa primavera però adesso sta facendo un tempo magnifico per esempio qui non abbiamo il condizionatore caro giovi quindi forse spenderemo 100 euro di più l'anno di riscaldamento ma qui non abbiamo il condizionatore per l'estate non c'è bisogno di condizionatore che per me è un grande vantaggio perché io odio l'aria condizionata noi stiamo dormendo con il piumone ancora lo stesso piumone che usiamo d'inverno figurati perciò pro e contro ragazzi pro e contro non non sto vendendo di amsterdam come magari qualcuno fa quando vi deve vendere dove vive io sono il primo a dirvi sono sicuro che una percentuale grande di voi se venisse qui non si troverebbe bene sono sicuro allora ragazzi noi già un'oretta che stiamo insieme in grecia è meglio vivere e da pensionato hai un buon regime fiscale ci dice la grecia è bellissima è meglio vivere rispetto a che a me queste affermazioni un pochino mi lasciano sbigottito no è meglio rispetto a chi magari per te è fantastico magari per il 60 per cento dei pensionati italiani è bellissimo magari per me fa schifo non credo che farà farebbe schifo è perché mi piace la grecia però per dire ragazzi imparate ad abbracciare la diversi la diversità non diversificazione la diversità perché siamo tutti diversi abbiamo esigenze diverse e tra l'altro le esigenze cambiano quindi vedete quello che oggi sono i nostri bisogni magari tra dieci anni magari io qui sto sul canale tra dieci anni a dirvi o ad amsterdam fa schifo vivere me ne sono andato non ce la facevo più ed è va bene va bene perché in dieci anni magari sono cambiate le mie aspettative i miei obiettivi le mie condizioni magari da genito sarò genitore non mi troverò qui queste cose le dovete capire bisogna essere c'è una cosa scusate sto scrivendo se c'è una cosa che mi ha insegnato la finanza sapete che è proprio la flessibilità la dinamicità non essere attaccati ad una pietra incollati alle proprie opinioni incollati alle proprie idee e accettare che si può cambiare idea solo le secondo me solo le persone con poca intelligenza alla fine non cambiano le proprie idee non cambiano le proprie aspettative quello che cioè io se dovessi pensare a me quando avevo 18 anni a me quando ne avevo 25 a me quando ne avevo 30 io sono cambiato tanto cambierò tanto il mio pensiero cambierò tanto sono cambiare tante cose dai ragazzi vi ho chiamato qui per parlare del portafoglio da 100 mila euro e quindi cosa abbiamo intenzione di fare sto portafoglio ve lo voglio far vedere o no rocca dice a 18 anni io avrei voluto vivere a roma adesso non ci penserei mai le cose cambiano è normale giusto la m dice di quattro stagioni in italia è rimasta solo la pizza buona tra l'altro mamma mia la pizza quattro stagioni a me purtroppo non mi piacciono i carciofi perché ci ho fatto in digestione e quindi non la prendo mai perché ci sono i carciofi a quattro stagioni è veramente una bella pizza non secondo me con l'impasto napoletano ma con l'impasto romano quello più fino quello più largo la pizza romana tonda con fatta capricciosa mamma mia ragazzi rocca dice torneresti mai in italia se la tassazione fosse più bassa in italia ci tornerò sicuramente ragazzi ci tornerò sicuramente allora vai portafoglio da 100k è mercato ai massimi storici stavo vedendo la chat scusate fatemi bere ma se mi hanno dice ti manca l'italia non mi manca l'italia ancora non mi manca o meglio ci torno durante l'anno tre quattro volte e mi va bene così non c'è ancora mancanza ti dico la verità arriverà e sono sicuro che a un certo punto arriverà però quando torno sono contento di tornare meno meno contento di tornare a roma sono più contento di tornare in altre città dell'italia perché a roma ritorno un po quella che era la mia vita poi a roma sono strattonato da parenti amici devo far questo far quello devo sempre di fretta non riesco mai a fare le cose che devo quindi a roma soffro ancora però arriverà dai il momento migliore per acquistare è oggi e te lo voglio dimostrare con un portafoglio vero che andremo a costruire insieme nel tempo piano piano ma oggi getteremo un po le fondamenta oggi ti dirò alcuni ragionamenti che ho intenzione di fare sarà un portafoglio da 100.000 euro dove le ho prese 600.000 euro le ho prese dalla liquidità in eccesso che avevo sulla mia azienda quindi sono soldi non miei personali sono soldi dell'azienda quindi attenzione al rischio perché su quei soldi ci ho pagato già iva e tasse quindi devo stare molto attento a cosa uscirà fuori soprattutto devo stare molto attento alla parte di drawdown cioè di perdita devo cercare di minimizzarla quindi questo sarà uno degli obiettivi ma le ho trasferite su un broker e ci faremo insieme questo percorso che ne dite e lo so i mercati stanno ai massimi storici e molti investitori in questo momento sono spaventati ma non si investe ai massimi storici se investe ai massimi storici rimango col cerino acceso in mano rischio che poi se i mercati stornano il mio portafoglio vada subito in drawdown da una parte è vero bisogna essere più attenti più oculati nella scelta però ragazzi il mercato ci dimostra che statisticamente investire ai massimi storici vuole anche voler dire migliorare le performance questo non lo dico io lo dico lo dicono i mercati nel lungo termine certo se guardiamo ad un orizzonte temporale di almeno cinque anni ora quali sono alcune constraint che c'ho di questo portafoglio non c'ho cinque o dieci anni perché perché essendo liquidità aziendale l'orizzonte temporale di questo portafoglio è di due o tre anni quindi vi direi che è un portafoglio di medio termine però faremo anche operatività un pochino più di breve termine faremo operatività su quello che io chiamo delle posizioni asimmetriche cioè dove si sono create delle inefficienze di mercato o meglio delle inefficienze tra la condizione macroeconomica di un paese e la condizione finanziaria di un paese e c'ho già due o tre cosette in mente che voglio condividervi con voi e poi faremo invece posizioni che hanno un respiro un pochino più più ampio ragazzi non sono consigli finanziari questi nessuno deve copiare quello che faccio assolutamente quindi prendete questo video e i prossimi video su questo portafoglio che costruiremo insieme semplicemente come uno spunto didattico un'informazione un'idea per capire meglio come ragiono io e come ragiono io è basato su che cosa sulla mia età sulla mia conoscenza sul mio profilo di rischio sulla mia tolleranza al rischio su quello che vedo in questo momento e su quello che è il mio processo che sapete è un processo quantitativo non mi sentirete mai dire voglio investire su questa azienda perché secondo me andrà bene no non esiste il secondo me ok quindi mi raccomando didattica e partiamo da questo video qua e scusate no partiamo non da questo video partiamo da questo grafico grafico aspetta che ve lo faccio vedere da questa parte vorreste vederlo adesso ed eccolo qua guardate questo è il grafico dell'S&P 500 con i livelli dei massimi storici dal 1970 ad oggi e vedete da questo grafico si vede come lo capite poi da queste tabelle vi ci accompagno io non vi preoccupate l'acquisto di titoli azionari ai massimi storici aumenta i rendimenti quindi perché questo se ci pensate no i massimi storici avvengono in momenti in cui c'è crescita economica magari c'è anche un po di ottimismo e e quindi questo tende ad essere positivo per le revenue delle aziende perché i consumatori hanno più fiducia i consumatori spendono la disoccupazione è bassa e questo fa crescere le entrate delle aziende che quindi quando presentano gli utili gli utili vanno bene gli analisti finanziari quando devono fare le proiezioni sui utili futuri delle aziende tendono ad alzare le proiezioni e finché questo diciamo gioco funziona il cerchio il cerchio è chiuso tutto quanto cresce quindi questo non vuol dire che possiamo acquistare qualsiasi cosa e andrà bene assolutamente no bisogna farlo con consapevolezza bisogna farlo in maniera intelligente bisogna farlo sapendo esattamente cosa si sta andando a prendere e ti parlo un attimo del di questo portafoglio eccolo qua allora questo portafoglio ragazzi è un portafoglio da centomila euro scusate ne vedete solo novantamila adesso sul broker il mio broker che sto usando per questo portafoglio è scalable capital e vi spiego perché subito perché mi serviva è un portafoglio diciamo rotazionale ok di medio termine è un portafoglio nel quale andremo ad investire sia in azioni che in etf ma è un portafoglio che quindi mi serviva dal punto di vista delle delle commissioni della sicurezza che che mi dava e degli strumenti a mia disposizione fosse molto ampio ritengo scalable capital un broker eccellente forse il miglior broker per investimenti rotazionali portafogli passivi investimenti passivi che c'è oggi sul mercato tra l'altro è anche un'azienda che attualmente credo almeno stia ancora dando il 4 per cento fatemi vedere adesso lo andiamo a vedere subito perché non so se dopo il taglio dei tassi qualcosina è cambiata il 4 per cento sul conto deposito esatto quindi questo è anche un broker che attualmente sta dando il 4 per cento annuo lordo ed interessi sulla liquidità fino ad un milione di euro e non ha nessun costo per ordini a partire da 250 euro per far questo dovete avere ci sono ci sono c'è una formula gratuita per il broker è la formula a pagamento che si chiama prime io l'avete vista ho fatto quella e ve lo dico già c'è un costo mensile che è piuttosto contenuto 4 euro e 99 al mese ma a me quello che interessava era ottenere questo 4 per cento anno per i primi quattro mesi poi passa a 2,6 per cento annuale però è perché è interessante perché il 4 per cento oggi lo danno forse ancora qualche no non credo più credo che abbiano tagliato tutti perché ha tagliato la banca centrale europea ragazzi quindi oggi il 4 per cento lordo non lo dà più nessuno e quindi mi davano ancora la possibilità di fare che cosa di avere della liquidità ferma che comunque mi genera il 4 per cento infatti vedete ho l'opzione prime plus che è l'unica opzione che sì è vero c'ha un costo di una cinquantina di euro l'anno ma mi ci rifaccio tranquillamente perché mi dà il 4 per cento per i primi quattro mesi e il 2,6 visto che questo è un portafoglio che voglio costruire nel tempo terrò sempre un po di liquidità per valutare opportunità e quindi voglio che questa liquidità mi generi un rendimento e questo è anche uno dei motivi per cui ho scelto scalable e poi per la possibilità di strumenti che mi dà a disposizione per questo motivo già vi dico che non c'è non ho bisogno di andare a per esempio andare a mettere su all'interno non c'ho bisogno di andare a mettere il mio capitale su etf monetari altrimenti probabilmente avrei valutato di mettere la liquidità su degli etf monetari come il l'euro overnight rate swap ad accumulo eccolo qui di questi etf ho già parlato in un mio video lo trovate qui sul mio canale quindi adesso non non ne parlo ma insomma fondamentalmente seguono e replicano il livello di interesse l'andamento dei tassi settati dalla banca centrale europea che adesso sono stati tagliati e quindi ci aspettiamo che scenda un pochino non c'ho bisogno di tenerli qua perché banalmente mi dà di più il mio il broker e tra l'altro questo è anche il broker scalable capital che per il portafoglio vi ricordate che vi ho parlato del portafoglio dei miei nipotini che con mio fratello stiamo costruendo il loro portafoglio sono molto piccoli sarà un portafoglio di lunghissima data un portafoglio solo ad etf solo a piano di accumulo portafoglio che c'è solo e l'etf all world il wce e gli ho fatto aprire un conto su scalable anche a loro e tra l'altro ragazzi lasciatemi dire una cosa vi ho messo qui sotto il link se volete supportare il canale cliccate sul link qui sotto e mi fate anche un favore perché quando gli ho detto al quando ho detto al broker che stavo utilizzando il loro broker mi ha detto senti perché non facciamo anche un accordo così magari supportiamo anche il canale visto che ci stai utilizzando e di questo sono contento ora da dove vogliamo partire allora vorrei partire partiamo da alcuni paesi ok ci sono dei paesi che sto controllando dal punto di vista macroeconomico e chi diciamo mi segue con il macroverse e il macroverse è il servizio di analisi macroeconomica e finanziaria sa che ci sono dei paesi che sono interessanti in questo momento e perché sono interessanti perché espongono dal punto di vista dei dati macroeconomici potenzialità di crescita ve ne dico rimaniamo un attimo in europa e ve ne dico uno che è diventato uno un'operazione un po asimmetrica quella che cos'è un'operazione asimmetrica cosa intendo intendo quando il valore diciamo il rischio è molto più piccolo rispetto al potenziale rendimento futuro che posso ottenere quindi fondamentalmente il rischio è molto basso rispetto al rendimento la percentuale che posso fare e lo sapete qual è questo paese qui in europa la francia adesso vi spiego anche perché c'è questo etf qui ad accumulo eccolo qua i share e guardate potete prendervi anche l'easing e l'easing ve lo potete mettere anche su just etf se vogliamo andare io già lo conosco insomma però se volete potete andare a prendere qua ve lo mettete qua eccolo qui andare a vedere che ha un costo di 0 25 per cento che insomma è basso ma non è bassissimo mi va bene ad accumulo replica fisica è piccolino è 112 milioni non è enorme ma per diciamo quello che serve a me va benissimo 63 holdings e qual è il problema del il problema della francia è il problema della francia è che dal punto di vista macroeconomico già vi dico che la francia ha potenzialità di future dei prossimi trimestri di crescita è passata dal un regime economico di espansione economica in nel primo trimestre del 2024 è passato a ad un rallentamento dell'economia e un rallentamento dell'inflazione quindi in q2 nel secondo trimestre che non è troppo positivo ma il prezzo ha sofferto molto guardate che cosa ha fatto il prezzo negli ultimi eccolo qua guardate ne mettiamo qui negli ultimi tre mesi vedete c'è stato questo questa discesa importante perché qui eravamo a maggio intorno ai 59 euro siamo scesi e siamo adesso ai 56 e qui c'è c'è stata un po una problematica di turbolenze politiche le sorprese non piacciono mai i mercati ora i dati macro e i miei modelli statistici futuri vedono nella francia una potenzialità di crescita economica e nel 2000 nel nei prossimi trimestri del 2024 in particolare q3 visto che il prezzo è sceso per una sorpresa che c'è stata negativa ovviamente stavo pensando che potrei pensare di comprare un po di francia nel portafoglio con un etf allora in questo portafoglio ragazzi ci sarà una fetta dedicata all'azionario stock picking quindi singole azioni ci sarà una parte etf ci sarà una parte di materie prime ci sarà pure una parte di bitcoin lo vedremo adesso e quindi ho un asset allocation in mente però ancora non voglio condividerla perché voglio ancora pensarci in base a come saranno le evoluzioni delle prossime settimane diciamo che questo è un video che ci facciamo ogni mese almeno anzi no direi sì diciamo minimo ogni mese ma almeno uno a trimestre perché quello è l'orizzonte temporale e quindi parleremo piano piano del di quella che diventerà l'asset allocation per ora voglio mettere sulla francia diciamo l'un per cento circa del portafoglio e quindi vuol dire l'un per cento circa mille euro no anzi no l'un per cento è proprio mille euro perché insomma mi sto mi sto il portafoglio di centomila euro perché mille euro allora voglio farvi vedere una cosa andiamo un secondo qui su market sto su contest e andiamo sui countries sui paesi voglio vedere un attimo se aspettate devo accedere scusate voglio vedere dal punto di vista del dei livelli di attenzione e dei trend come è messa e come è messo il paese allora andiamo un attimo qui mettiamo clicchiamo sulla francia eccola qui allora quello che mi interessa vedere sta qui sotto allora innanzitutto vedete che siamo nella parte bassa dei livelli di attenzione qui bisogna stare attenti un pochino vi dico la verità perché dal punto di vista tecnico il trend di medio termine è ribassista da nove giorni però rimane il di di rialzista quello di lungo termine il prezzo sembra effettivamente aver rimbalzato un pochino e ripeto si stanno probabilmente acquietando i mercati dopo le sorprese negative quindi perché mi metto l'un per cento solo perché parlo della l'un per cento è il mio livello minimo di tolleranza di profilo di rischio per un etf di paese e quindi mi do la possibilità nel caso in cui scenda ancora un pochino di poter aggiungere una posizione vi ripeto ragazzi questa è una posizione per me di almeno sei mesi ok il che non vuol dire che non posso chiuderla prima però la metto oggi nel mio portafoglio avendo una orizzonte temporale di sei mesi torniamo qua mille euro e prepariamo l'ordine qui posso mettere ok 17 shares aggiungiamo un limit devo guardare il prezzo a 56 e 37 quindi magari provo a vediamo se riesco a rosicchiare qualcosa ai mercati metto un 56 e 3 vediamo se giusto 56 e 37 si almeno rosicchio qualcosa e facciamo clic su buy è il ricevuto istruzione l'ha messo in macchina e adesso devo aspettare che lo esegua ovviamente il mercato adesso è chiuso 56 e 37 staremo a vedere perfetto e la francia era un uno dei paesi che volevo aggiungere ce n'è un altro sempre parlando di paesi molto interessante che anche nei miei portafogli quelli di più lungo termine ed è ed è l'india ora sull'india c'è sia quello di i share che quello di amundi da qualche pa eccolo qui quello di amundi però se ricordo bene quello di i share costa costa meno ha un terra leggermente più basso eh fatemelo vedere fatemelo vedere qua allora la share india è molto grande 5 miliardi accumulo 0 65 mi ricordavo che non era proprio bassissimo il costo eh mentre invece eh la mundi 921 mentre invece la mundi era eh eccolo qua ad accumulo questo era il leasing 0 85 no infatti la mundi era di meno poi la replica era swap based era anche più piccolo di fondo un miliardo e cento eh prendiamo il prendiamoci il l'i share torniamo un secondo indietro ecco qui e voglio andare a vederlo un attimo sul grafico perché l'india ragazzi eccolo qua l'india lo prendiamo sul eccoci qua purtroppo eh siamo a in alto eh dico mi sarebbe piaciuto vedere un altro eh tipologia di grafico comunque l'india eh è passata ha affrontato diciamo due trimestri non troppo positivi perché siamo stati a cavallo tra ehm c'è stato un rallentamento economico anche se dal punto di vista diciamo del dato l'economia ancora cresceva ma è rallentata rispetto ai trimestri precedenti lo sapete che per per me è importante il cosiddetto rate of change ma di nuovo terzo trimestre quarto trimestre dell'anno la fotografia ad oggi dei miei modelli previsionali mi danno ancora un una crescita economica e un'inflazione che eh effettivamente potrebbe diminuire almeno nel terzo trimestre del duemilaventiquattro quindi pensavo di sarebbe stato bello entrare qui eh eh pensavo intanto di mettere un piccolo eh no siamo a 9.23 eh magari me lo metto a 9 e vediamo se riesco a strappare qualcosa al mercato a 9.15 facciamo clic su buy anche qui mettiamo per ora solo l'un per cento order sempre un limit e abbiamo detto 9 virgola 17 e questo è 9.23 anzi facciamo 9.15 dai vediamo se riusciamo a strappare qualcosa al mercato e questo era la seconda il secondo paese ve ne faccio vedere un terzo quindi rimaniamo adesso sui country paese eh torniamo schippiamo questo non ci interessa ce lo metto a mercato il terzo è il Giappone tante soddisfazioni mi ha dato il Giappone allora c'è qui l'iShare e questo non è giato no perfetto però è questo è lsri io fatemi vedere che cosa c'è ah 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 allora fatemi vedere c'è il core eccolo qua questo mi piace di più andiamo a vedere che caratteristiche ha allora questo 5 miliardi ottima 0.12 costi bassissimi perfetto replica eh l'indice ehm msc japan imi eh guardate ve lo faccio vedere questo aspettate che questo link per farvi vedere qui ci sono i dettagli del del mercato quindi qui dentro ci sono large cap mid cap e small cap del mercato giapponese c'ha circa 1088 eh holdings quindi diversificato e effettivamente eh mi piace andiamo a vedere dal punto di vista del grafico e adesso vi spiego anche vi spiego anche eh andiamocelo a vedere su getex ecco oh ah cavolo abbiamo abbiamo sperso il 2% se entravo ieri avevo già fatto un 2% perché il Giappone ragazzi perché il Giappone eh viene fuori dal da questo trimestre eh secondo trimestre dell'anno che è stato in stagflazione cioè ha avuto una decrescita economica come rate of change quindi l'economia è un po' rallentata ma comunque eh l'inflazione ehm è salita e quindi non è proprio positivo e il Giappone viene fuori da quattro eh trimestri consecutivi di diminuzione della eh della crescita economica del prodotto interno lordo però attenzione che eh la politica le politiche monetarie della banca centrale si stanno un pochino stringendo ehm quindi sta aumentando piano piano i tassi con molta lentezza ha fatto un aumento del di 10 punti base quindi niente ma soprattutto i miei modelli eh previsionali eh quelli che lancio nel servizio del macroverse mi dicono che il Giappone nei prossimi trimestri vedrà un'accelerazione del prodotto interno lordo ehm e con una diminuzione dell'inflazione che comunque in Giappone è ancora bassa e quindi questo è eh positivo anche qui voglio comprare vi dico qui compro un pochino più del del dell'1% qui mi permetto già un un e mezzo per cento sempre lasciandomi spazio io mi piace sempre entrare in maniera incrementale soprattutto perché non pago eh quindi eh ragazzi quando scegliete il broker in base al vostro processo è pure importante scegliere il broker giusto per questo ho scelto scalable capital e perché insomma mi dà commissioni zero eh abbiamo detto limit qui 49.9 sta ancora muovendo fatemi vedere un po 30 minuti vediamo se riesco a strappare qualcosina e qui è strappato proprio adesso eh vediamo se mi torna a 49.95 dai vediamo se qualcosina lo strappiamo eh 49.95 ok vai eppure questo l'abbiamo fatto non è eggiato eh non mi serve eggiato eh anche se il lo yen lo so che eh insomma è un problema eh però va bene così ora obbligazioni degli etf eh sto pensando se per diversificazione ridurre un pochino avere una componente all'interno del portafoglio che sia effettivamente decorrelata agli altri asset vi dico eh gli etf obbligazionari bisogna fare molta attenzione perché eh innanzitutto molti dicono ma ti metti un etf obbligazionario perché così non c'ha volatilità rimane fermo qua non è vero c'è volatilità eh si muovono eh non sono poi così a basso rischio ehm come si vuole far credere ehm però per me in questo portafoglio non ha senso mettere obbligazioni acquistate direttamente da eh che ne so dall'Italia dalla Germania dall'Austria dall'Olanda eh quindi l'unica cosa che potrei pensare è quella di mettere eh o metto un eh globale con aziende sia eh governative che aziendali e banalmente non so eh potrei mettere un eh potrei mettere un eh un aggh per esempio o un vagf come etf o potrei mettere che quello è veramente decorrelato potrei mettere un lungo termine americano potrei mettere un i share usd treasury bond dai vent'anni in su ad accumulo questo potrebbe essere interessante per avere di ripeto uno strumento che si decorrela un po' eh non mi piace l'entrata adesso ehm e potrei anche pensare di mettere un short term sempre una share usd treasury bond uno tre anni più sensibile alle politiche visto che eh la banca centrale eh taglierà i tassi e quindi gli uno tre anni magari potrebbero essere più sensibili e scendere un po' per ora la componente obbligazionale vi dico la verità non la voglio mettere come aspetterò ancora un pochino per mettere il gold eh metterò un physical gold un etc perché sì è vero che è sceso siamo a eh 42 fatemelo vedere qua eccoci qui questi sono i 30 minuti aspettate mettiamoci il giornaliero beh su una su un supporto interessante a dire la verità però vorrei vedere se questo supporto effettivamente lo lo riesca a rompere quindi potrei intanto prendermene una piccola porzione eh veramente stando sulla parte bassa del mio profilo eh perché vorrei lasciarmi la possibilità di aumentare le posizioni se il prezzo dovesse tornare in quest'area qui ok e allora qui sì che vorrei aggiungere altre posizioni quindi diciamo che per ora posso prendermi un 500 euro anche perché di nuovo free of charge vedete non pago commissioni quindi non mi interessa ehm di prendere di fare più entrate 500 euro le prendiamo fatemi mettere un pricing limit sta scendendo oggi bene mettiamole a 3 3 5 5 5 3 dai non non siamo troppo ah questo è 4 e 2 è stata un'altra parte scusate 4 2 25 questo lo mettiamo a 42 punto 23 dai vediamo se riusciamo a togliere ancora qualcosa bene e infine vi avevo detto che l'avrei fatto ci mettiamo un pezzichetto di bitcoin dentro che ne dite allora per bitcoin ci sono varie possibilità possiamo prendere uno degli etc possiamo prendere il physical bitcoin d'invesco io penso di prendere il coinshare physical bitcoin e quindi selezioniamo questo sempre su una borsa che attenzione ragazzi non sto comprando il sottostante quindi non sto possedendo bitcoin eccetera e perché questo allora cosa è successo al prezzo di bitcoin btc usd diamo a vedere va mettiamo il giornaliero è sceso lo sapete oggi già fatto un bel 2 30 per cento ha toccato anche un bel pavimento questo e qui siamo scesi per ho fatto un video ieri andatelo a vedere problemi di liquidità nel senso che c'è stata poca liquidità a dire la verità dalla stagione delle tasse negli stati uniti non c'è stata grande emissione di aste obbligazionari e quindi poca liquidità all'interno del mercato che però dovrebbe aumentare proprio a partire da luglio quindi luglio agosto sono due mesi in cui la liquidità potrebbe tornare dal punto di vista stagionale l'estate dell'alving tende ad essere stagionalmente positiva di bitcoin quindi un altro punto a favore credo che bitcoin in questa discesa profonda che ha toccato addirittura i 58 mila dollari ha sofferto molto del caso mongox che sta ridando i soldi ai creditori per lo scandalo che era successo e quindi c'è stata grande anche paura oltre che dinamiche tecniche anche la germania sta lasciando dampando miliardi di bitcoin però secondo me questo livello è il livello che ha tenuto ed è interessante e quindi anche qui voglio mettere per ora un 1% di bitcoin ad limit bitcoin è piuttosto volatile quindi posso spuntare un pochino di prezzo vediamo se magari nella notte mi torna sui 61.000 dai mettiamo a 61.000 vediamo che succede vediamo se ci entra altrimenti poi me lo vado a ricambiare ah in euro ragazzi io sto guardando in dollari è marco btc euro è a 57 e quindi lo potremo mettere a 57.000 010 57.000 010 eccolo qui 0,016 bitcoin perché c'ho delle fee fammi andare fatemi un secondo andare a vedere free of charge per 250 dollari quindi non dovrei averci delle fee giusto prepara l'ordine e abbiamo detto l'un per cento e a cavolo mi sono dimenticato il prezzo 57.000 10 57.000 10 e messo anche questo a mercato bene staremo a vedere cosa succederà se entreranno queste queste cose intanto vi faccio vedere il mio portafoglio qui su contest e poi ragazzi nel prossimo video ci guardiamo l'azionario è perché c'è un po di azioni in mente da mettere questo è il mio portafoglio marco contro l'intelligenza artificiale sta facendo il 19 21 per cento da quando l'ho creato a dicembre del 2023 ecco qui l'equity line e andiamo a vedere effettivamente come sta andando non tocco più da un po di tempo un po di cosette avrei dovuto aggiungere vi dico la verità ma sono partito in puglia e non mi piace fare le cose di fretta quando non ho non ho tempo comunque staremo a vedere bene ragazzi dai non abbiamo fatto la parte azionaria ma ci metterò delle azioni ce ne ho già 4 5 in mente quindi magari nel prossimo video le inseriremo quindi faremo un altro pezzo e quindi sono contento vediamo qualche domanda ragazzi ce l'avrete sicuramente importante vedere come lavori con contest e macroverse sì ragazzi il mio macroverse che poi è il mio processo quantitativo matematico mi dà la guida da seguire e poi contest mi dà diciamo i segnali quindi questi strumenti lavorano tutti insieme del resto li ho costruiti perché per aiutarmi in primis nel mio processo e spero che saranno utili anche a a voi la francia l'ho preso no su xetra l'ho preso su getter l'altro no che è gratuito e la borsa scelgo è quella che mi dà il broker è quella che scelgo la borsa che mi dà praticamente commissioni zero e quindi su scalable la commission free è getrex jacobo dice l'SMP500 potrebbe crollare e andare a zero fra trent'anni jacobo che domanda è scusami che domanda è ti dico jacobo guarda te lo dico con il cuore ovviamente non posso risponderti la domanda non c'è risposta intelligente a questa domanda però se hai in mente questa domanda è perché evidentemente hai ancora bisogno di studiare molto bene il settore finanziario ed economico quindi ti invito a studiare prima di pensare di fare qualsiasi altra cosa ok perché ti mancano magari una serie di informazioni e infatti jacobo dice sono giovane ho paura che l'economia si sposti jacobo l'economia non si sposterà da un anno all'altro trent'anni sono tanti sì ci potrebbe mettere trent'anni ma non è che tu oggi investi oggi e ti svegli tra trent'anni per vedere che cosa è successo no l'economia va seguita la finanza va seguita quindi saranno cambiamenti lenti e avremo quindi tutto il tempo di reagire e comportarci di conseguenza johnny dice per raggiungere l'indipendenza finanziaria pensi anche tu si debba guadagnare si debba guardare alla regola del 4% no non sono io non sono per niente d'accordo al metodo fire e non sono per niente d'accordo al metodo del 4% infatti il mio obiettivo non è proprio quello di togliere una percentuale dal mio capitale ma è di continuare a far crescere il mio capitale e lavorare invece sul reddito passivo attraverso i dividendi perché perché il capitale non lo voglio toccare non voglio far diminuire il capitale per nessun motivo al mondo perché quel capitale voglio anzi che cresca e magari lo voglio lasciare come eredità quindi non sto dicendo che il metodo fire è sbagliato che sto dicendo che ci sono secondo me alcune considerazioni che vanno fatte particolari perché il metodo fire applica la matematica a qualcosa che è estremamente personale perché la vita di noi persone è tutto è diverso ognuno di noi ha vite diverse ognuno di noi abita in città diverse ognuno di noi abita in paesi diversi ognuno di noi ha il proprio lavoro ognuno di noi ha la propria situazione familiare è tutto così diverso che pensare di poter applicare una regola matematica che valga per tutti è un errore secondo me madornale e sono sicuro che tante persone torneranno indietro perché si renderanno conto che quella secondo me è una linea guida che va presa contestualizzata alle proprie condizioni alle proprie situazioni ai propri scenari ai propri obiettivi eccetera quindi va contestualizzata e potete tirar fuori il vostro framework ma non potete applicare quello di qualcuno al vostro secondo me non funziona e io di certo non voglio espormi a nessun rischio sperando che funzioni felix dice marco come fai a essere così lucido a quest'ora felix ti dico che e te lo dico perché non sono così lucido a quest'ora se il mio stile di vita è basso cioè per me stile di vita vuol dire dormire le ore giuste io minimo ho bisogno di diciamo che le ore giuste per me sono sette ore devo dormire sette ore quindi faccio in modo di andare a letto e dormire sette ore di qualità cibo sto molto attento a quello che mangio sto molto attento a quello che mangio dopo una certa ora sto molto attento al consumo di zuccheri la mia dieta è praticamente priva di zuccheri ridotti al minimo carboidrati controllati quindi cibo allenamento mi alleno e questo per me fa la differenza e te lo dico perché so che quando magari vado in vacanza e comincio a concedermi e mangiare male bere un po' di più mangiare quindi zuccheri eccetera dormire così e così perché poi quando mangi male dormi pure male ti dico la mia lucidità cambia quindi se ti devo dire il mio segreto e non è un segreto è lo stile di vita ok no assolutamente no dieta chetogenica anzi ti dico non mi piace per niente la dieta chetogenica la mia dieta è semplicemente una dieta a basso valore glicemico e è una dieta che mangia prende tutto varia tutto cerca di variare molto è una dieta che ha un grande contributo di verdure cotte in un certo modo crude dove possibile io sono vegetariano non mangio carne quindi nella mia dieta non c'è carne perciò no e sì Roberto lo so che la tua dieta è differente e Guglielmo dice per vivere di dividendi si fa stock picking con etf globali ci vogliono diversi milioni di euro allora Guglielmo ognuno sceglie la propria strada la mia strada sarà quella di avere un portafoglio di azioni perché? perché lo so fare perché ho la conoscenza per poter fare stock picking e quindi è lì il mio obiettivo ok allora ragazzi dai vi chiedo a questo punto di se volete supportare un pochino il canale qui sotto nel campo descrizione c'è il link a Scalable Capital abbiamo aperto questa collaborazione visto che usavo loro come broker e sono stati diciamo così aperti e amichevoli poi sono molto simpatici quindi cliccate sul link mi fate un favore perché mi aiutate a portarvi sempre più contenuti che altro dirvi noi ci vediamo al prossimo video perché parleremo della componente azionaria mi raccomando quindi grazie intanto per la partecipazione e buoni investimenti a tutti vediamo come va questo portafoglio da 100.000 euro grazie a tutti 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 grazie a tutti